Buongiorno a tutti, ho sbloccato le terre dimenticate, infatti sono rimasta con pochissime Dreamlight perché ce ne volevano 15, adesso me li sto rifacendo un po' nel Estrai dei Diamanti vedete sono 925 perché 15.000 li ho sbloccati per aprire le terre dimenticate poi ho usato tanti soldi per migliorare il ristorante di Remi, adesso ci sono tre tavoli poi mi devo fare un altro baule perché ormai l'inventa, guardate un po' che roba qua, raccolgo tutto per il baule ma questo lo farò fuori registrazione, adesso vi faccio vedere le terre dimenticate per i quali ho speso un sacco di soldi per sbloccare il botteghino di Pippo e oddio vedete non mi entrava più niente, mi sa che sì, adesso l'inventario è abbastanza buono perché non avevo posto ho lasciato il diamante, eccoci qua vedete ho speso tutti i soldi per aprire il pozzo e per la bancarella, eccola qua la bancarella, vedete l'ho già modernizzata due volte infatti ho sia i semi di patate che i semi di zucca, però non ho più soldi perché anche il pozzo mi è costato un sacco qui c'è una casetta nella quale non riusciamo ad entrare e non capisco perché, boh, io penso che Eric possa essere qui perché è l'unico personaggio che mi manca Eric, le casse le ho aperte tutte, che rabbia quando cammina così rimuovi le spine della notte piccole, ecco che ci facciamo altre dream light e vedrete adesso quando raccolgo ma io ho lasciato in giro un diamante ragazzi, devo andarlo a prendere, non posso rinunciare a un diamante non mi ricordo dove era però, adesso ve lo dico subito, ero qui quando ho scavato per il diamante quindi adesso ci vado, io ho senso dell'orientamento zero, qui c'è l'argilla, è argilla questa? fammi vedere, sì è l'argilla, questa ci servirà moltissimo ma io rivolgo il mio diamante ecco qua c'era il ferro che me lo piglio, mamma mia poi con tutti questi alberi già è difficile prenditi sto diamante, forza che l'abbiamo scavato con tutti questi alberi, il fuoco, mi è cascato proprio qua il diamante, vai da questa parte mamma mia, senso dell'orientamento, saltami addosso eccolo qua, prendi sto diamante mo cammina a vuoto, che è una cosa che mi fa impazzire nuova ricetta, cos'è che era? boh vabbè, lo vedrò e volevo quel pezzo di ferro oh là, prendi anche sto pezzo di ferro poi più avanti, guardate che bella roba qui c'è una nuova pietra, per cui proviamo a scavarla vai, scava ben bene ferro wow, i cristalli uh, che pietra è questa qui, prendi tutto ok, ha preso tutto vediamo che nuove pietre ci sono ah vabbè, questo ce l'avevamo già ametista lucente questo è il cristallo e vabbè, il ferro serve sempre abbiamo un diamante 600, pensavo di più va bene, comunque abbiamo preso abbiamo aperto le terre dimenticate per cui, come vedete dal menu per il momento io non ho più biomi da aprire li ho tutti abbiamo le terre ghiacciate e abbiamo le terre dimenticate quindi per ora ci manca solo eric vediamo dove lo troviamo eric personaggi sicuramente nelle terre dimenticate io con ratatouille allora, vediamo i miei livelli di amicizia 9 con wally 8 e 7 con oceania 3 con ratatouille 5 con scar renditi utile però non sappiamo dove è eric se no sarebbe troppo facile sono poco amica di Ursula e di Ariel 6, 5, 4 e 10 con lei poi vabbè c'ho 6, 6, 4, 10 e 10 con Pippo e Topolino devo aumentare un po' di amicizie però vabbè se voglio aumentare le missioni devo aumentare un po' di amicizie qui ci sono delle mele ma che cavolo ce ne facciamo ne abbiamo un sacco comunque no allora ragazzi ho piantato le zucche ho venduto gli asparagi che sono quelli che rendono tanto ma mai come le zucche e vedrete qui ci sarà da piazzare dei cristalli però siccome non mi dice ancora interagisci probabilmente dovremo trovarli in giro adesso andiamo a vedere se possiamo intanto mangiamo qualcosa così ci viene un po' la super forza mangiati il pinzimonio no non gli basta per arrivare alla super forza va bene allora mettiamo via un po' di roba negli scatoloni ok il resto ce lo vendiamo da pippo quindi ragazzi per fare su tanti soldi per fare le dream light è abbastanza semplice perché andate su menu andate su dream light scava 4 punti rocciosi per cui per farsi 200 dream light certo è lungo per arrivare a 15.000 ci ho messo un sacco però se rispettate queste cose qui per esempio prendi dei frutti di mare ne ho presi due me ne manca uno 5 ortaggi quando raccoglierò le zucche avrò 200 punti 200 punti di scavare un altro punto roccioso non mi ci vuole niente qui raccolgo questo perché lasciarlo lì anche no va bene che nessuno ruba a Disney dream light valley però mamma mia io vi giuro che detesto il modo di muovere di muovere in questo gioco proprio perché vanno veramente dai zucchette crescete in fretta allora devo scavare un punto roccioso ne scavo uno a caso così mi piglio i punti dream light non mi interessa se c'è un carbone queste robe qua tanto servono sempre anche queste e mi raccolgo i miei 200 punti dream light quanto a far su soldi allora le dream light servono solo a sbloccare i biomi quindi in pratica avendoli sbloccati tutti io non avrei più bisogno dei dream light perché servono solo a quello a sbloccare i vari biomi che sono gli scenari insomma i vari scenari mentre i soldi da fare proprio sono punto soldi i soldi normali quelli delle vendite servono più che altro per modernare i baracchini aggiornare le case che anche quelle ti danno delle dream light paperino cosa vuoi zuppa di pesce vai facciamo che con paperino non abbiamo sta grande amicizia perché lui è sempre arrabbiato allora zuppa di verdure no vuole la zuppa di pesce merluzzo pasta vegetariana ratatouille zuppa di mare ma non è la zuppa di pesce zuppa di mare vediamo se è questa mi manca il latte ok lo compro qua compra latte ne prendiamo due due perché non so quanto ce ne vuole due compra ah bene ho presi fin troppi va bene facciamo sta zuppa non so poi nemmeno se mai se la mangia lei se non è quella giusta zuppa di pesce mi ha chiesto lui zuppa di verdure buiabessa deve essere per forza la zuppa pasticcio di verdure no trota iridea zuppa di mare ah no eccola la zuppa di pesce perfetto riempimento automatico cucina zuppa di pesce con latte la prima volta che la sento ok dallo a paperino che tutto questo serve sia per aumentare l'amicizia ma anche per farsi delle dream light perché spesso viene fuori prepara da mangiare ho il tuo ordine dagli la zuppa di pesce arriviamo a 7 con paperino quindi possiamo anche fare una missione con lui parliamo nuovo livello ricerca cibo livello 7 mille sì fantastico e adesso parlaci che magari possiamo fare volevo fare un picnic facciamo qualcosa insieme no niente a livello di amicizia per le missioni ormai è 10 con tutti aspettando che ste zucche si decidano a maturare sto facendo un altro giretto qua per scoprire quali sono le novità di questo bioma e qui so che ci sono i fuochi fatui non so se sono fatui oh qui scaviamo un po' vediamo cosa c'è da scavare qua vai ok ancora cristalli della notte le mele ne abbiamo un fottio non occorre che le prendiamo le mele no sto cercando lo zenzero ecco qua intanto che maturano ste zucche benedette e se questa si decide a camminare come le dico io togliti di mano sta zappa e prendi lo zenzero che ne abbiamo bisogno per fare la birra qui non può prendere il baule che è tutto in mezzo ai fuochi io voglio lo zenzero perché comunque la birra ha il suo perché diciamo prendiamoci anche quest'alga va che le alghe sono sempre utili e qui dovremo sbloccare la sfera ma mi sa che non so perché io non non ho guardato i i gameplay degli altri che sono già arrivati a questo punto perché se no mi tolgo tutta la sorpresa e quindi ma ho idea che eric possa essere qua qui ci sono dei fiori nuovi ma li ho già raccolti no io sto cercando lo zenzero sempre in attesa delle zucche quindi eccolo qua ecco lo zenzero non questo lo zenzero ok va bene ragazzi aspettiamo ste zucche benedette no le mele non le voglio neanche i fiori basta ok andiamo a vedere le zucche ma penso che ancora ha da passare nuttata e vediamo vai avanti bellezza mia c'ha lo zainetto nuovo lei no ancora niente zucche però ci siamo quasi eh ah ma allora queste sono patate wow chiamiamo ad assisterci stavolta chiamiamo Wally dai andiamo da Wally no lui è più vicino andiamo da lui chiediamoci di fare qualcosa insieme chiediamogli di fare qualcosa insieme così lui ci moltiplica il raccolto facciamo qualcosa insieme sono sempre molto felici di farlo vieni Maui che mi devi dare un sacco di roba in più quindi comincia a raccogliere e credo che siano le patate queste qui perché non mi sembrano zucche raccogli patate sì ok e ce ne ha fatte trovare altre tre prendiamole subito se no spariscono anche qua ci sono le patate raccogli raccogli andiamo a raccogliere quelle che ci lascia lui poi anche qui raccogli le patate e le zucche ci mettono un po' di più eh raccogli 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 quante ce ne dai? là una sola Mizzica Maui sei il più tirchio di tutti eh basta finiteno patate anche qua patate qua raccogli 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 e ci da il terreno ricco molto bene questo è utile per certe cose non ci hai dato altre patate? ok le patate mi sa che le abbiamo tutte perché non ne ho piantate tantissime ciao mini finalmente abbiamo le zucche ragazzi nel frattempo è iniziata una missione per Christophe cioè quella di creargli una bancarella dove venderà ferro pietra quello che serve e quindi ci sarà molto utile in futuro ma adesso ringraziamo Madame Gotel e raccogliamo le nostre zucche ecco brava Madame Gotel faremo tutto la prossima volta ciao adesso devo chiamare qualcuno io chiamo il primo che mi capita il più vicino che mi aiuti col giardinaggio allora il più vicino è lui andiamo e lui mi aiuta con il giardinaggio vieni che raccogliamo le zucche e lui me ne darà anche un bel po' di più sì Maui ho bisogno di te sei un semidio facciamo qualcosa insieme vieni vieni che raccogliamo le zucche le vendiamo e vi faccio vedere quanti soldi valgono oddio questa qui è impedita poi continua a muovere quelle gambe e questa è la cosa che mi fa arrabbiare di più ok lasciamo perdere vieni Maui vieni vieni gioia mia vieni non ne abbiamo tantissime ma le ho piantate dovunque in tempi diversi eccole ba 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 raccogli tutto raccogli tutto sparagi porri zucche anche i porri abbiamo piantato per cui ci dà anche i porri ok continuiamo a raccogliere vai qui a raccogliere le altre le ho piantate vai brava no se brilla devi continuare a scavare qui maledetta che non capisce niente ok dov'è l'altra zucca lo so che vi fa girare la testa per prima cosa gira a me la testa poi se non li raccogli subito svaniscono vai raccogli raccogli lì raccogli lì raccogli lì raccogli lì che ce ne sono altre ok qua poi qua e poi lì e poi qua e poi qua mi zicao vi giuro vi giuro vi giuro che non la sopporto più Tartol col suo modo di camminare che nonostante gli ostacoli continua poi veramente la direzione è difficile da prendere raccogli e adesso uh tre qua tre vai qui Tartol via 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 che ne dobbiamo vendere un bel po' tanto per farvi vedere quante poi quelle che raccoglierò in seguito qui le pianto adesso subito se no mi spariscono pezzi di orto quelle che raccoglierò prossimamente le metterò nel baule della cucina perché mi serviranno e adesso di colpo vendiamo finalmente zucche e porri 26 non sono moltissime però sono 17.200 e i porri dove sono ecco e 7 porri che anche questi sono 664 21.000 425 in un attimo ma vedi anche questi no? altri 2100 ti fanno schifo? vedete come si fa? basta grazie Pippo io vi saluto e adesso nel frattempo abbiamo raccolto anche 500 monete stella e siamo 4250 4775 è così che si può andare avanti in questo gioco solamente così io vi saluto oh altre zucche da raccogliere ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.